Bruno De Tassis diceva sull'iscio non si sale, ma questo straordinario alpinista trentino ha spesso saputo dimostrare il contrario. Questa sera all'auditorio Santa Chiara assisteremo alla Cordata Vincente, uno spettacolo teatrale dedicato proprio a Bruno De Tassis. A rendegli ormaggio saranno la banda sociale di Zambana, la filodrammatica e il coro della Sonset. Ma ora lasciamo spazio alla musica. La mia cultura e la vita che ho parlato, non il libro. Il periodo della montagna è più che bella. è facile, è difficile, è tutto meglio. A me mi ha dato una parola prudenza, di essere amico di tutti e di non tirarmi mai di nessuno.